Terra dei fuochi e non solo, terra delle bugie, delle promesse non mantenute di piccole e grandi collusioni che hanno condotto ad avvelenare l'anima stessa di una regione. Quando la politica fallisce e non è più in grado di dare risposte che la gente cerca, allora è troppo comodo affidare l'onere alla chiesa, divenuta la supplente di uno stato che latita. In Campania questo avviene già da un po', anche grazie alle troppe negligenze istituzionali, che oggi sono divenute più macroscopiche che in passato. Non per ultima quella legata alla Terra dei fuochi, che dopo 30 anni di onorato servizio, si fa per dire, pare che solo adesso possa essere bonificata, ma manco questo è certo. Ho chiesto da qualche giorno una legge speciale per le bonifiche per la Terra dei fuochi, un'area che è stata lo sversatoio illegale per oltre 30 anni di tutto un sistema europeo ed italiano, chiosa il Stefano Caldoro, presidente della regione Campania, che se da una parte monta il teatrino della politica da un palcoscenico mediatico all'altro, sull'altro versante è guerra aperta contro tutti quelli che si pongono delle semplici domande. E così, mentre passa da una TV all'altra a fare bella mostra di sé, sotto sotto ordina la vergognosa censura di un tweet di un giornalista non allineato e che non fa parte dello staff dei postulatori del suo personalissimo processo di beatificazione quotidiana, per una domanda a lui rivolta, considerata scomoda, di cattivo gusto, o almeno non concordata, come sostengono alcuni. Il giornalista in questione gli aveva chiesto, in merito alla bonifica della Terra dei fuochi, perché ora, visto che il problema è atavico, domanda accompagnata dalla preghiera di non fare l'ufo, rispondendo in italiano e non in politichese alla questio. Dopo poco tempo il tweet è sparito, perché cancellato dalle risposte ai tweet del governatore. Nonostante queste azioni da regime, Caldoro chiede a Granmoce la legge speciale per la bonifica della Terra dei fuochi. Un po' come anche io e noi tutti chiediamo a Granmoce, nuovamente, perché bonificare ora? Dove erano le istituzioni 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa? A chi conviene ora e perché? Magari a queste domande non avremo mai una risposta, ma almeno le abbiamo fatte.